Siamo in Terranoa e questo è il salvore di San Morichessa in Maria Rocca. Il salvore è da una mura russa, metà una metà dolce, questo spuzzone, però, anticamente, vi conosceva questa seta. Questo affozza, l'unica cosa che manda in un bacco la seta, chiedendo a lei in Barbagia e stasera, entro il domo, facendo stasera il muccarolo, questo costume. Probabilmente questo è un alvore che arriva dalla montagna, che è nato con questa transumanza, quando la sardina è libera e si faccia tutto quello che si è in pittaglia per vivere, che hanno un predomo, compresa la seta che serviva da fare il muccarolo di questo costume.